Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video Enesimo videoacquisti, vado iper spedito Allora, oggi sono andato al GameStop E vi faccio vedere direttamente cosa ho comprato E si tratta di... Stavo guardando perché mi sembra che va a rallenti la bocca Sto parlando di Wonderbook, il libro degli incantesimi Come potete vedere l'ho preso nuovo E' imballato, adesso lo sballerò per voi E lo sballerò, vuol dire che lo farò ubriacare Dopo abuserò di lui Allora... Volevo già prenderlo ieri con questo coso Poi ho detto, bah E' Wonderbook, non so, non sono sicuro di volerlo Wonderbook Intanto sto cercando di non desfare tutto Ho tagliato questa bellissima cartina Ci ho messo neanche troppo, dai, due minuti ci ho messo Dopo aver tagliato questa cartina Ecco ho già avvenuto la scatola Andremo a vedere cosa c'è in questo bellissimo scatolone Allora, dentro si presenta così Adesso lo tiriamo fuori Due palle dopo dovrò rimettere Ci ritrovo un'ora e mezza Allora, apriamo Intanto la scatola è bellissima Boh, ho scelto uno sbrega La metterò qua Allora, prima cosa che troviamo E' il Wonderbook Il libro degli incantesi Bellissimo E iniziano tra panare a far casino Beh, è il libro con i vari codici strani Che dopo la telecamera rileva E si fa le cazzate Troviamo il gioco Il libro degli incantesimi in celofanato Con lo strano rumore Intanto lo lo vattro Richiede il PS Move Miranda Gadù Il libro degli incantesimi Con la partecipazione di J.K. Rowling Che è la tipa che ha scritto gli Harry Potter E basta E questo non lo aprirò Lo lascio intanto con me Cosa molto più importante Troviamo Il Move Esattamente Quando c'è la pallina Squeezie Squeezie E io ho preso il libro degli incantesimi Dentro c'è anche la percana Imballata molto bene Con gli scoppiettini Che non fanno a distruggere E basta E ho comprato Il libro degli incantesimi Proprio per il Move Perché Cazzo non è frega Del libro degli incantesimi Sì ci giocherò Sono malato Io proprio la mia ragazza Ma io l'ho comprato Per questa Fai qua Bene E L'ho preso Alla modica cifra Bellissimo Di 20 euro Tutto questo paccone Scontato Costava 20 euro e 98 Costava 64 Ho detto Cazzo voglio il Move Poi quando ho visto questa offerta Ho detto Mi fai un culo Me lo prendo C'è anche il libro degli incantesimi Solo questo Questo affare Intanto vi ho già spiegato Cosa ho comprato Solo questo affare Costa 39 euro e 90 Nuovo Senza telecamera Solo uno di questi Vabbè Dato che vi ho già spiegato Ho comprato anche La pistola Perché Claudio Come avete già visto Mi ha regalato The House of the Dead Allora ho detto Va bene Cosa faccio Mi compro la pistola Ora Ci metto E va bene Ci metterò un'ora per montano E invece no Vediamo E va bene Taroccata Così taroccata Come si funge L'ho già rotta Comunque dovrebbe essere così Dovrebbe essere così Così c'è La tua bella pistola The House of the Dead È completo Ora Io ho proprio comprato Il move Perché quel maledetto Claudio Mi ha regalato The House of the Dead Mi ha fatto venire voglia Di sparatutto cabinati Mi serviva il move Pistola Era E non si chiude più Oh sono riuscito a romperla In un giorno Neanche che ce l'ho Pagata Era usata questa Ed è nuova praticamente È identica A me L'ultimo mi fa È un pezzo di plastica Che l'ho anche usato Fa quanto 5 euro Ok Dammi la pistola Se no nuova costava 15 Ho detto Ma che cazzo Non ne prego Bene Questo video è finito Il mio bellissimo Libro degli incantesi Grazie E al prossimo video Ciao